Ciao a tutti, terza puntata dei Fuma Classici, ovvero la rubrica che attraverso delle recensioni su classici che io ho letto si tenta di combattere la letteratura trash infondendo il buon gusto. Mi sento Carlo Gozzi della letteratura, non lo so. Vabbè, i gusti sono gusti, ricordiamocelo, però è bene anche su canali in cui si parla di libri trattare anche dei classici della letteratura, noti, meno noti, alcuni li conoscerete, altri magari non li avete mai sentito nominare, ma sono tutti libri che in un modo o nell'altro hanno una notevole importanza. Vi ricordo anche che potrebbe anche benissimo capitare che alcuni dei libri di cui parlerò in questa rubrica non mi saranno piaciuti, ma io ne parlerò comunque ricordandoci che a prescindere dal gusto personale si trattano dei classici e quindi se un motivo per cui sono classici, cioè oggi tratteremo le ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo, che io ho letto subito dopo I dolori del giovane Werther di Goethe, in quanto queste due opere sono connesse l'una con l'altra in qualche modo, no? Soprattutto se l'avete studiato a scuola, sicuramente parlando di questo romanzo epistolare di Foscolo, il nome di Goethe sarà sicuramente saltato fuori. Perché? Perché Foscolo scriverà questo romanzo nel 1797 fortemente ispirandosi a Werther e al suo romanzo di grande successo, I dolori del giovane Werther, uscito una decina d'anni prima, 15 anni prima. In realtà la prima stesura, ricordiamocelo, è stata realizzata attorno agli anni 70 del 700, però in verità la seconda versione, che è quella più famosa, è uscita nel 1787, quindi dieci anni prima, questo romanzo di Foscolo. Per quanto sia estremamente forte la comunanza tra le due opere, in realtà ci sono altri rimandi a cui Foscolo si ispira, ad esempio la poetica del filosofo francese Jean-Jacques Rousseau, infatti il nome Jacopo Ortiz viene dato al suo personaggio in onore di Jean-Jacques Rousseau, che è un autore che Foscolo apprezzava molto e che lo ispirava parecchio nella sua poetica. Ovviamente però, per quanto ci sia una somiglianza di narrazione tra l'opera di Werther e l'opera di Foscolo, vi sono anche molte differenze, tant'è che io non capisco come alcuni dicano che questo sia un plagio di Werther, quando in realtà non è assolutamente così, secondo me. Innanzitutto Foscolo è vero che prende molta ispirazione dal romanzo di Werther, ma allo stesso tempo prende ispirazione anche da un fatto di cronaca che è realmente successo e sviluppa il suo romanzo in modo completamente differente, con delle differenze. Innanzitutto, qua, per quanto... Lotte nel romanzo di Werther non ricambiava assolutamente l'amore per il protagonista, mentre qui abbiamo una situazione totalmente differente, proprio a livello di trama superficiale, poi entreremo maggiormente nel dettaglio. A livello di trama superficiale, la donna qui è come se condivide l'amore, è un amore ricambiato questo. Teresa, in questo romanzo, è costretta a sposare Odoardo, ma non è innamorata di lui, è costretta a sposarlo per delle questioni di tipo economico, una sorta di matrimonio combinato, no? E poi, la grande differenza rispetto al romanzo di Werther è che qui vi è un contesto fortemente politico, tant'è che la politica è il primo tema del romanzo, insieme alla storia d'amore. La storia d'amore, in verità, è come nel caso di Werther, fortemente simbolica, cioè serve per lasciar passare messaggi di altro genere. E inoltre, ma adesso vedremo nel dettaglio, inoltre nel romanzo di Werther questa cosa non avveniva, qui il ricevente delle lettere, che è Lorenzo, interviene anche come narratore. È come se Lorenzo avesse voluto raccogliere tutte le lettere ricevute da Jacopo, ma allo stesso tempo integrare la narrazione con i fatti che non sono descritti nelle lettere. Quindi vi sono due narratori fondamentali all'interno di questo romanzo, ed è quasi come se, per quanto non sia così, ma per farvi capire, è quasi come se il narratore del romanzo non sia Jacopo, ma sia Lorenzo, ovvero il ricevente delle lettere, il cui compito è quello di collezionare le missive a lui ricevute, a lui inviate, e allo stesso tempo, appunto, raccontare ciò che non è scritto nelle lettere. Comunque, veniamo al personaggio di Jacopo Ortiz. Jacopo Ortiz è, come Werther, un uomo estremamente colto, tormentato e con fascinazioni letterarie, artistiche. Allo stesso tempo è abbastanza legato alla tematica della morte, ad esempio la visita ai sepolcri, ok, ma la grande differenza è che, per quanto come Werther non si senta parte integrante della società, ed è una delle tematiche fondamentali del romanticismo letterario, allo stesso tempo però vi è la componente politica, ovvero non è solo un autoestraneamento dalla società, ma ricordiamoci che Jacopo Ortiz è anche esule, quindi è scacciato dalla sua patria, per quanto sia innamorato o perso della sua patria, infatti si parlerà della patria, praticamente ogni due righe verrà nominata, ed è quello il tema del romanzo, è sentirsi parte, sentire le proprie radici come la componente più importante della propria personalità, ma allo stesso tempo esserne cacciato, e quindi è un personaggio senza origine e senza un luogo dove stare, è un personaggio fortemente prigioniero del destino, tant'è che oltre al malessere esistenziale, pian piano prende il posto anche alla follia, la follia è un altro tema importante del romanzo, Werther non era folle, Werther si lasciava travolgere da questo sentimento istintivo, che lo portava quasi a un malessere esistenziale, ma non ha mai scatenato della follia, invece Foscolo molto spesso nel descrivere il malessere di Jacopo usa termine quale follia, impeto, è folle, più si procede nel romanzo e più perde la sua capacità di raziocinio, infatti qua l'amore, l'amore che Jacopo prova per Teresa, che è ricambiato, infatti i due si baceranno una e una sola volta, di nascosto, è la classica, che era anche Inverter era così, era la simbologia del contrasto che si crea tra l'intelletto e il raziocinio umano, che l'essere umano si è costruito, è saputo sviluppare, ma allo stesso tempo l'emozione impeto, istintuale, che è comunque parte dell'inconscio umano, ed è prettamente animale, irrazionale, quindi vi è un contrasto tra questi due estremi, che portano inevitabilmente alla follia, anche se qua il suicidio, rispetto a Werther, è un suicidio che non è, per quanto l'amore impossibile per Teresa, sia sicuramente una delle cause, non è l'amore che spinge al suicidio Jacopo, è una... il suicidio qua viene vissuto non come il fine ultimo della depressione, del malessere esistenziale, ma quasi con un intento politico, con un intento liberatorio, infatti comunque, Foscolo ciao, Jacopo si sente fortemente prigioniero del destino, del destino che incombe su di lui, lo imprigiona, l'ha privato della patria, l'ha privato dell'amore, e quindi la morte di propria mano, è il modo per beffarsi, in sostanza, del destino, l'essere liberi, almeno nella scelta della morte, e quindi è un suicidio che... è una scelta di libertà che il destino non può togliere, è la libertà assoluta per il personaggio di Jacopo, e quindi sì, ci sono delle grandi differenze con l'opera di Werther, e tra l'altro leggendo questo romanzo, e guardando le differenze con i dolori del giovane Werther, io ho saputo apprezzare maggiormente il dolore del giovane Werther, che comunque mi era piaciuto, ma l'ho apprezzato un filo di più, perché sono due opere che sono connesse solo per determinati aspetti, che in verità non sono così determinanti, nel senso che sono due opere che per quanto indaghino, come nella letteratura romantica, dei temi comuni, in verità hanno degli scopi differenti, perché appunto lo scopo di Foscolo è fortemente politico, ed è rispetto al romanzo di Goethe, che il romanzo di Goethe per livello di scrittura mi è piaciuto molto di più, nel senso che è più fluido, più evocativo, il romanzo di Foscolo è più pesante, però si apprezza, si riesce ad apprezzare allo stesso livello, infatti io li metto più o meno sullo stesso piano, per la densità di riflessioni, per la densità di temi, per la densità di emozioni che fa provare questo scritto, vi ricordo che appunto è un romanzo di forma epistolare, nonché se non erro, non voglio riminescenze dal liceo, se non erro è il primo romanzo epistolare italiano, e è una bellissima lettura anche questa, sicuramente a tratti pesanti, pesante, ridondante, ma che alla fine si rivela, non dico life changing, però dico di forte impatto emotivo, e sicuramente leggere prima Werther e subito dopo questo mi ha portato ad apprezzare tanto entrambe le opere, è come se questo romanzo fosse una naturale, un naturale superamento del Werther per entrare in una psicologia ancora più complessa, perché ricordiamoci che l'introspezione di Goethe era già per l'epoca fortemente precisa, poi vabbè arriverà Dostoievski, ma sarà dopo, Foscolo mette quasi un paletto in più, nel senso che riesce a fare ancora una volta uno studio da entomologo della psiche umana di fronte alle difficoltà, di fronte all'oblio, al perdersi, a non sentirsi più parte di niente, è bello, ve lo consiglio, però come Goethe, mentre Goethe comunque è accessibile, secondo me, basta avere, vi ricordo, anche se non l'ho studiata a scuola, informatevi prima, almeno delle basi dello Sturm und Drang, del contesto storico, ma proprio due cose, Foscolo è una lettura più complessa, secondo me, anche perché comunque è una lingua che non ci appartiene più, quella della prosa di Foscolo, per quanto abbia il suo ritmo, abbia la sua evocatività, però in questo caso le reminescenze scolastiche, di quando l'ho studiato al liceo, mi sono servite tanto per la lettura, quindi se siete giovanissimi e non l'avete ancora trattato nel programma scolastico, vi consiglio di aspettare, se invece avete già superato, avete ancora reminescenze del Foscolo, se non ve lo ricordate, rileggetevi qualcosina che in questo caso, secondo me, vi serve. Io comunque vi consiglio la lettura di questo straordinario libro e al prossimo Fumaclassici. Voi sapete che Fumaclassici significa recensione trash in arrivo o recensione trash appena passata, vero? Un bacione. Ciao ciao.